Giocare col Buller, mangiunti per lui Intorno alla cinquantica posizione, una presa a parte di tutte le competizioni del circuito Buller di Coppa del Mondo 2011 Non l'abbiamo visto molto bene Lo scorso weekend qui, Arcon, nella prova Buller, ma le gole per l'incavato del mondo Vediamo già Cedric Lachat, che sta giocando con le prele Scuola dell'Ecuadoro per Andres e Kinteros No, devo tornare su Sì, guarda che non va Cioè, domani mattina, le scelte Le scelte Le scelte Buongiorno, buongiorno, soffrona Ok, Giocare Chiudere, chiudere, chiudere Soprattutto, anche per lo sviluppo Buongiorno, buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.